Ben trovati dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. C'è stata una seduta la più recente e da questa abbiamo estrapolato due argomenti così da fare questa trasmissione monotematica dedicata al lavoro. Il primo argomento riguarda la delocalizzazione delle aziende. L'Aula dice no all'unanimità, è stata approvata una proposta di risoluzione che sollecita un intervento normativo da parte del Governo contro la delocalizzazione e ovviamente si parla dell'azienda GKN. Invece altri lavoratori, quella della Sittel, sono stati ricevuti in delegazione dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Il primo argomento, come abbiamo detto, si parla anche della GKN. L'Aula si è espressa con sì unanime sulla proposta di risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi consigliari che impegna quindi la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende. Sono i tre punti fondamentali dell'atto che è stato presentato in Aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti. Si chiede alla Giunta regionale di attivarsi per quanto di proprietà e competenza con l'ospicio che ciò possa portare a un'immediata revoca dei licenziamenti e poi ovviamente licenziamenti collettivi alla GKN per monitorare e evolversi della situazione. Poi, come dicevo, di impegnarsi nei confronti del Governo perché venga approvata quanto prima la proposta di legge depositata inserendo i contenuti della proposta di risoluzione e nel caso di valutare l'opportunità di predisporre una proposta di legge proprio toscana al Parlamento e si chiede inoltre che venga introdotto un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che pur avendo ricevuto dei contributi pubblici decidono di trasferire altrove la produzione. Io ritengo che la GKM ha già preso un bel ceffone quello di essere valutata per una condotta antisindacale Dicevano gli antichi latini Errare human un est ma perseverare diabolico Io l'auspicio che faccio a Merrose è che non perseveri perché lo sbaglio l'hanno già fatto nelle procedure e nel metodo oggettivamente molto superficiale e arrogante con cui si sono posti dal primo momento e a questo punto scendano sul tavolo, riprendano la produzione e sviluppino le procedure così come la normativa italiana richiede. Noi stiamo per votare una risoluzione che dice no alle delocalizzazioni selvagge che chiede con forza anche una norma e questo è un decreto urgente il governo dovrebbe fare su GKN in cui nel caso in cui un'azienda è sana non è possibile delocalizzare e non è possibile licenziare in questo modo credo che questa sia una battaglia di dignità che noi dobbiamo portare avanti io ho un'ossessione, l'ossessione per il lavoro l'ossessione per quelle donne e quegli uomini che la sera tornano a casa e a volte si ritrovano nella condizione di non sapere come pagare una bolletta o poter andare ad acquistare del cibo Il mio è un ringraziamento a tutte le forze politiche tutte quante, ovviamente al Presidente del Consiglio a tutti coloro che hanno condiviso questo documento oltre agli uffici l'abbiamo fatto in tempi rapidi ed è parte di un percorso e di un impegno che ci siamo presi in quel momento con i lavoratori e con le lavoratrici quello che è accaduto lì a 500 lavoratori perché con l'indotto si arriva fino a 500 con tutte le famiglie è una cosa che dobbiamo scongiurare io l'ho chiamata scempio l'ho chiamata una vergogna l'abbiamo definita in una maniera inconcepibile ecco che la Regione Toscana per quel che può deve alzare la voce presso gli enti che possano fare qualcosa ovviamente la decisione del Tribunale di Firenze ci ha aiutati a prendere tempo e di cui ringrazio la FIOM per il loro lavoro e per il loro impegno noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengano revocati immediatamente i licenziamenti abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avviva il suo iter velocemente e anche in maniera efficace quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni e qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina ecco che diventa un atto che vuol condannare un sistema selvaggio che vede la speculazione finanziaria e non rispetta un modello di lavoro dignitoso noi dobbiamo sicuramente interrogarci sul modello di sviluppo che vogliamo e vogliamo farlo mettendo al centro la dignità dei lavoratori ma lo facciamo anche nel rispetto di quelle imprese, di quegli imprenditori e anche di quelle multinazionali che invece si sono sempre comportate correttamente il nostro obiettivo è la correttezza la legalità e l'etica del lavoro la Regione deve dare un segnale forte in questa direzione ci siamo uniti tutte quante le forze politiche mandando un messaggio molto chiaro e ho sempre detto che quando si parla di lavoro di tutela del lavoro, di dignità delle persone non ci sono colore, non ci sono distinzioni questa è una vicenda che ormai ha assunto il respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale quindi la risposta dell'istituzione è una risposta forte e di vicinanza adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara che naturalmente però deve partire da due logiche da un lato la tutela del lavoro sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali oltre alle tante imprese alle tante attività artigianali alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico ecco questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro quindi noi sosteniamo questa battaglia però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo le imprese sul banco degli imputati quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione e che meritano altrettanto di essere sostenute abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione e questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo nella soluzione insomma di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli della GKN noi sottolineiamo due aspetti fondamentali il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'aula né fuori da quest'aula su ciò che è successo sulla GKN per domandarsi come in una società di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale la produzione nazionale e il luogo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutto diciamo la narrazione dell'Italia post pandemia dall'altro chiaramente e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte di mitigare cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto e questo è veramente chiaro ed è oggettivo non si vada invece a fare il gioco contrario cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentono appunto di facilitare gli investimenti in regione toscana Confindustria Toscana in questo senso è stato abbastanza chiaro siamo contenti che sia stato mitigato questo passaggio nel testo ed è quello su cui Fratelli d'Italia è disposto a giocare la partita insieme alle altre forze politiche il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori perché hanno le idee molto chiare spesso anche più chiare della stessa politica sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi lo hanno vissuto sulla loro pelle e devo dire i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese ma veramente del tessuto produttivo del territorio che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione hanno fatto delle richieste precise sono molto organizzati determinati li abbiamo visti anche durante la manifestazione poderosa che hanno organizzato a Firenze finalmente veramente ha fatto piacere anche vedere che c'è un risveglio della coscienza dei lavoratori che si sentono uniti che sono uniti nelle battaglie comuni e quindi niente la proposta di risoluzione che parte oggi dalla regione toscana è la voce dei lavoratori verso il governo cioè di che cosa deve contenere quel decreto anti delocalizzazione è un impegno che abbiamo preso il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti i protagonisti fin dalla prima parte come ufficio di presidenza come capogruppi abbiamo lavorato insieme abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori doveva essere la Toscana difendere i lavoratori della Toscana in questo caso di Campi ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice ma non è sufficiente noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori e mentre si stava riunendo l'aula e stavano approvando appunto come abbiamo sentito la risoluzione il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha incontrato una delegazione sindacale dei lavoratori della Sittel che hanno manifestato a Firenze per chiedere il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre 2020 del 30% di aprile e del mese di maggio 2021 ai rappresentanti di Grosseto Firenze e San Miniato il presidente Mazzeo ha assicurato il massimo impegno anche attraverso una lettera al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ascoltiamo anche come è andato questo incontro con il presidente Mazzeo è sempre una bella giornata quando c'è una notizia positiva io penso che la politica le istituzioni tutte debbano essere a fianco dei lavoratori sempre ascoltando le parole della sindacalista che mi ha preceduto ha detto non era scontato che la politica fosse in mezzo a noi che le istituzioni fossero in mezzo a noi invece io penso che il ruolo di un'istituzione come la nostra debba essere quella di cercare di costruire le condizioni per cui i lavoratori abbiano sempre più diritti questa è stata una vertenza difficilissima difficilissima perché non era scontato il risultato ma noi ce l'abbiamo messa tutti e ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme i lavoratori le lavoratrici i sindacati le istituzioni regionali le istituzioni locali io sono contento oggi di suggellare questo momento perché è il segno che una comunità l'intera comunità toscana può combattere altre battaglie difficili penso a quella della GKN solo se si tiene tutta per mano solo se si tiene tutti insieme tutto il consiglio regionale sia insieme e questa è la nostra forza non dividiamoci mai secondo logiche politiche nazionali ma poniamo al centro sempre i cittadini le persone il lavoro questa è la sfida che ci attende la vertenza Sittel è un risultato positivo ma non abbassiamo la guardia perché ce ne sono tantissime altre vertenze che richiedono la nostra vicinanza il nostro sostegno è come dire un lavoro di comunità tutti insieme è stata una vertenza durissima che ha visto i lavoratori con sei mesi di stipendio arretrato da riscuotere e che diciamo sia una storia molto complicata nell'ultimo anno anno e mezzo si è acuita la crisi e noi ci siamo adoperati anche con l'aiuto fondamentale delle istituzioni intendendo per i comuni la regione toscana la prefettura e a livello nazionale i ministeri perché chiaramente dovevamo risolvere questa situazione anche visto che si parla di un'azienda che lavora nel mondo della telefonia quindi della connessione di tutto ciò che abbiamo vissuto nei regimi di pandemia e quindi non solo era un problema dei lavoratori ma è anche un problema del paese perché diciamo sì il fatto che un'azienda importante per team per Open Fiber non lavorasse limitava lo sviluppo del paese su quello che è la connettività la fibra e lo sviluppo dell'infrastruttura noi siamo riusciti grazie all'enorme sacrificio dei lavoratori all'impegno di tutte le RSU e anche delle organizzazioni sindacali a convincere team a fare un'operazione che vorremmo fosse un esempio cioè il committente si fa carico della problematica facendosene carico risolve il problema e alla fine tutti ci guadagnano i lavoratori perché hanno un lavoro e uno stipendio regolare l'impresa in questo caso team perché comunque ha lavoratori formati che aiutano nell'attività principale dell'impresa stessa e il paese perché parlando appunto di infrastruttura digitale chiaramente anche il paese ci guadagna l'avvertenza ha riguardato circa 140 persone su tutto il territorio della regione toscana e 230 a livello nazionale per quanto riguarda il territorio fiorentino circa un'ottantina di persone hanno fatto appunto questo passaggio ovviamente nel frattempo qualche lavoratore ha fatto altre scelte giustamente perché ci siamo trovati in un periodo senza riscuotere senza avere soldi addirittura per andare a fare la spesa sicché qualche collega ha avuto dei problemi familiari e è dovuto andare via prima del tempo senza aspettare il risultato positivo che poi si è verificato appunto come diceva anche Samuele noi siamo venuti qui per ringraziare le istituzioni perché secondo me quando tutti lavorano per il proprio compito che hanno il risultato si ottiene in questo caso la regione ha fatto il proprio lavoro la prefettura ha fatto il proprio lavoro e le RSU hanno parlato con i lavoratori hanno fatto da filtro affinché i lavoratori stessero calmi e dassero fiducia a tutte le istituzioni e questo è stato il risultato appagato alla fine perché tutti hanno potuto riscuotere i loro stipendi dopo sei mesi che non riscuotevano e noi il RSU l'abbiamo vissuta proprio in prima persona perché la sera dei lavoratori ci amavano perché non riuscivano ad andare a fare la spesa addirittura abbiamo fatto anche delle collette per i nostri colleghi sicché la situazione è stata molto molto gravosa per noi non riuscivamo nemmeno a dormire la notte pensando a come risolvere il problema perché siamo molto contenti del risultato ottenuto e siamo venuti qui appunto a rendere una nota a tutti i cittadini perché sia ad esempio che nonostante tutto qualche volta le cose vanno come devono andare e quindi un appuntamento monotematico si è parlato di lavoro in questo nostro aggiornamento fra sette giorni saremo ancora insieme perché sono stati molti i temi che sono stati affrontati nell'ultima seduta d'aula per tutte le informazioni lo sapete il sito inter è il www.consiglio.regione.toscana.it grazie per essere stati con noi appuntamento fra sette giorni sempre qua dentro il consiglio grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori